il documento sull'immagine di scuola di scuola di scuola di scuola di scuola di scuola di scuola. Usate il botto di minus e il botto di più per gradire il numero di copie per registrare. Prossimo il botto di menu, i tre punti, per scegliere i settimane più giusti. Poi usate i bottoni Minus e Plus per aggiungere il settore di scuola per il lavoro di copia. Prendete il bottone Menù, i tre punti, per eseguire la rotazione di riduzione della copia. Eseguire la rotazione usando i bottoni Plus e Minus. Prendete il bottone Copy per iniziare a copiare. Prendete la copia di scuola e mette l'identificazione della copia di scuola 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 di scuola. Quando la copia è fatto, l'onegione libera e la rotazione in P2 sia anche sul display. Si apreva la scuola di scuola di scuola. Prima il card del scuola di 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 scuola. per iniziare a scannare la seconda parte del documento e a printare.